Tra i punti più importanti del programma del Gruppo Atlante 2000, il turismo è uno di questi. Il settore da marzo ad oggi è stato travolto dal Covid e da un'emergenza che non sembra finire. Il presidente Daniele Bellu, insieme ai suoi collaboratori, ha stilato un programma su come valorizzare le bellezze artistiche, naturalistiche e paesagistiche dell'Italia. Il piano turistico è fondamentale perché da sviluppo economico e sociale è elevatissimo allo Stato italiano, con la pianificazione dei servizi turistici che trovano la premessa normativa nel progetto in cinque libri della tutela dell'ambiente da me redatto come architetto. È bene precisare che il piano turistico citato verrà attuato progressivamente con il progetto dei 20 grandi porti turistici progettati dall'architetto Bello. Per il Gruppo Atlante 2000, il turismo sarà il centro dei temi che si affronteranno nei prossimi appuntamenti, all'interno dei quali saranno illustrati i progetti relativi alle infrastrutture, porti e approdi che sono alla base del rilancio. Il Gruppo Atlante 2000 ha quindi creato la struttura progettuale che servirà per dare avvio al processo di riforma strutturale dello Stato italiano, ma serve ed è essenziale anche la struttura amministrativa della società SRL Atalante 2000 che permetterà la realizzazione dei porti citati che iniziano il piano turistico di forma territoriale dello Stato italiano. Questa struttura amministrativa deve essere creata da un gruppo di professionisti e commercialisti dati dallo studio esposito della Rosa della dottoressa Arianna Esposito di Roma che sono già stati sentiti e che hanno accettato la proposta di aderire al Gruppo Atlante 2000 e di gestire la futura SRL Atalante 2000 che organizzerà la costruzione dei porti e poi tutte quelle che si riferiscono al piano turistico e alla riforma territoriale prevista dal progetto e 5 libri della tutela dell'ambiente citato.